Musica Salve amici del Centrometro Italiano, primo weekend di luglio a due velocità sulla nostra penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 7 luglio. Tempo instabile al mattino sulle regioni settentrionali, con fenomeni soprattutto su Alpi e regioni del nord ovest e generalmente più asciutto altrove. Al pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse al nord e anche sulle zone interne del centro e più asciutto con sole prevalente al sud. In serata è notata residui e piogge sulle regioni settentrionali e sereno poco nuvoloso altrove. Temperature minime, in generale rialzo ovunque, massime in lieve calo al nord e in aumento al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.